In merito a questa canzone si dice che quando lui viveva con Guy Clark a Nashville una notte sognò praticamente se stesso cantare questa canzone. Il giorno dopo si alzò, la trascrisse e questa canzone scano poi le classifiche arrivando a un successo incredibile grazie all'interpretazione di Emilio Harris. Ascoltiamola insieme, il fine interview, Erika Opizzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.